Buongiorno a tutti, oggi è una giornata importante, si celebra la giornata mondiale dell'udito, è uno degli obiettivi di salute che il Ministro persegue da sempre in tutte le fasce di età, perché si comincia già dai primi anni di vita, abbiamo il piano nazionale di prevenzione e il progetto sui primi mille giorni dal concepimento ai primi due anni di vita, che già con gli screening neonatali e con l'attenzione durante la gravidanza mira la prevenzione sia primaria sia secondaria rispetto all'isabilità all'udito e poi si prosegue con i percorsi di prevenzione sull'adolescenza e quindi poi sugli anziani. Sappiamo che il 50% della popolazione anziana oltre gli 80 anni ha problemi di udito, quindi è un percorso lungo tutto l'arco della vita e il Ministero ha dei piani specifici per ciascuna fascia di età per supportare, prevenire e curare questa importante disabilità. Quindi buon convegno a tutti e grazie di essere qui al Ministero. Grazie 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 Grazie